Al Coa si attendono ora i decreti attuativi del Ministero per dare seguito alla legge di riequilibrio energetico recentemente approvata. Nuove dimissioni all'interno della maggioranza che guida il Comune di Carbonia, stavolta a dimettersi è il Presidente della Commissione Cultura e Sport Maurizio Sodu. Si chiama Noi Andiamo Oltre, l'iniziativa organizzata da un giovane di Carbonia contro le discriminazioni. Mercoledì e giovedì prossimo verrà interrotta in diversi comuni del Sulcisiglesiente l'erogazione dell'acqua. Buon sabato 11 novembre a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro Tg. Apriamo la prima parte parlando ancora del provvedimento di riequilibrio energetico recentemente approvato dalla Camera dei Deputati che rende nuovamente competitivo produrre alluminio nel Sulcisiglesiente. Ne abbiamo parlato con il deputato del Partito Democratico Francesco Sanna. Siamo in compagnia del deputato del PD Francesco Sanna. Nei giorni scorsi è stata approvata definitivamente la legge europea con all'interno del provvedimento di riequilibrio energetico che finalmente rende produttivo e redditizio fare alluminio in Italia e quindi anche in Sardegna nel Sulcisiglesiente. Di fatto il provvedimento che si aspettava da tanto tempo per portare a compimento la pertenza al COA. Abbiamo trascritto nella legge italiana gli accordi del governo con la Commissione europea che sono costati anni di negoziato. Adesso attendiamo in maniera molto veloce i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico e i provvedimenti applicativi dell'autorità dell'energia. Sono norme che riguardano non solamente l'alluminio ma senza di queste l'alluminio non riparte né in Italia né in Sardegna e anzi diciamo che se riparte riparte in Sardegna dove abbiamo un impianto a Portovesme ex alcoa da riaprire e riguarda anche tutto il settore dei metalli non ferrosi perché si avvantaggeranno degli nuovi sgravi sulla bolletta elettrica dei grandi utenti industriali anche settori presenti nel nostro territorio come il piombo zinco quindi la Glencore a Portovesme e a San Gavino. Io penso che dobbiamo ricordare tutti che c'è anche una manovra a fianco che riguarda le energie rinnovabili importanti sempre in Sardegna nel nostro territorio. Basta impianti che costano sul groppone dei consumatori elettrici delle famiglie miliardi e miliardi di euro vinca il migliore con una dote finanziaria che valorizza l'energia e i suoi costi di produzione più bassi possibile l'energia verde e non valorizza invece le aspettative di guadagno di chi la produce quindi anche lì vinca il migliore ma vincano soprattutto i risparmi sulla bolletta elettrica dei consumatori. Lo stabilimento Alcoa otterrà grossi benefici da questo provvedimento di legge se verrà riavviato. Non solo grossi benefici avrà soprattutto il timbro della regolarità rispetto alle norme europee. Alcoa gli americani se ne sono andati non perché l'energia elettrica costasse particolarmente più di altri luoghi nell'Europa. Abbiamo fatto dei provvedimenti nel 2012 il decreto Salva Alcoa in cui loro potevano benissimo entrare. No se ne vanno perché non sono riusciti a non pagare i famosi 300 milioni di restituzione. Perché dovevano pagare questi tanti soldi che equivalgono anni e anni degli utili che ha fatto lo stabilimento? Semplicemente perché abbiamo fatto male le cose in Europa. Non abbiamo concordato la nostra politica industriale energetica con Bruxelles. Questa volta invece è tutto scritto bene. Il vantaggio di un operatore che oggi viene e decide di investire almeno 100 milioni nella ripartenza di Alcoa è esattamente questo. Entra in un sistema paese che rende possibile e sicuro il suo investimento. Continuano le dimissioni del Comune di Carbonia dopo quelle degli assessori dei consiglieri comunali nei mesi scorsi. Stavolta è il turno del presidente della Commissione Cultura e Sport Maurizio Sodu. Vediamo i dettagli nel servizio. Non si può proprio dire che l'amministrazione comunale di Carbonia non effettui sistematicamente quello che in molte categorie e ambiti viene definito come il turnover ovvero l'avvicendamento dei propri rappresentanti. Scherzi a parte dopo le dimissioni degli assessori Arianna Vinci, Riccardo Ciredo, Emanuele Arrubbio e Carla Mario, quest'ultima anche da consigliera insieme a Sabrina Soru, alle quali vanno aggiunte anche quelle del presidente della Commissione Lavori Pubblici Mauro Chedu e del presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Zonza per svariate ragioni, alcune non molto chiare. Ora è la volta del presidente della Commissione Cultura, Sport e Spettacoli Maurizio Sodu che ha rassegnato le dimissioni del proprio ruolo senza però fuoriuscire dalla maggioranza che guida il Comune e quindi mantenendo la propria funzione di consigliere comunale. La scelta sarebbe stata effettuata nel merito ovvero per differenti visioni in riferimento alle politiche legate alla cultura e allo sport in città. E ancorché tutte le dimissioni di questo primo anno e mezzo di amministrazione non abbiano scalfito quasi dal punto di vista numerico la maggioranza che guida il Comune, certamente evidente al netto dei fisiologici inevitabili assestamenti che qualsiasi compagine nuova come il Movimento 5 pubblica sulla tematica della discriminazione. Vediamoli che cosa si tratta in questo servizio. Siamo in compagnia di Sean Serra, un giovane di Carbonia, un giovane tifoso, un conduttore radiofonico impegnato in questo periodo in un'importante campagna contro le discriminazioni. Una campagna dal nome Noi Andiamo Oltre. Di che cosa si tratta? È una campagna che è partita dalla mia pagina, che si chiama Oltre e anche grazie alla mia radio di appartenenza, che è radio in 101.5, si trova a Sant'Antioco. Stiamo cercando di mettere in evidenza il nostro modo di vedere il mondo e crediamo che in un mondo che si sta evolvendo e sta cambiando molto velocemente le discriminazioni sono ancora tantissime. Non è un caso che addirittura una delle carte più importanti dell'ONU parli proprio di discriminazioni. Ciò significa che storicamente è un problema che non è mai stato risolto totalmente. Al giorno d'oggi ne vediamo tantissime, non solo per le persone disabili o per le persone che hanno un colore della pelle differente dal nostro, ma riguarda anche l'orientamento sessuale e tantissimi altri ambiti. Però dobbiamo anche dire che questa campagna, che consiste nell'hashtag Noi, maiuscolo, andiamo minuscolo e oltre maiuscolo, è una campagna che io volevo fare per mettere in evidenza anche il percorso che stiamo facendo nella mia città, che è Carbonia, dove anche grazie alla scuola di calcio, che sta andando molto bene, e anche grazie ai briganti che hanno portato un nuovo modo di concepire lo sport, cioè che si vinca o che si perda, noi siamo sempre comunque a sostegno della nostra squadra. E credo che sia una cosa molto bella e il fatto che questa campagna sia partita da Carbonia mi rende molto orgoglioso, non perché l'ho fatta io, ma in realtà la campagna è nostra e di tutti noi. Bentonati in studio, apriamo la seconda parte parlando della convenzione stipulata dal Comune di Iglesias insieme al Centro Iniziative Culturale Arci per l'istituzione della Casa del Cinema. Vediamo. L'amministrazione comunale di Iglesias ha firmato la convenzione con il Centro Iniziative Culturale Arci per l'istituzione della Casa del Cinema nel Centro Culturale di Via Cataneo. Questa firma è potuta venire grazie al bando emanato in passato e aggiudicato dalla CIC Arci per la gestione del Centro Culturale, all'interno del quale si avviano alla conclusione i lavori di riqualificazione della Sala Blu grazie all'investimento di 70.000 euro effettuato dal Comune. La Casa del Cinema assicurerà, oltre alle proiezioni cinematografiche, importanti azioni di promozione e formazione nello specifico settore, in particolare indirizzati alle istituzioni scolastiche. All'interno della struttura sarà inoltre disponibile una videoteca sociale con oltre 10.000 titoli suddivisi nei diversi supporti audiovisivi. Sarà anche il luogo giusto, ha spiegato l'amministrazione comunale, per organizzare rassegne ed eventi culturali e cinematografici e in quest'ottica prenderà il via il 18 novembre prossimo la nona edizione delle giornate del cinema mediterraneo. Abanoa, l'ente gestore del servizio idrico integrato, informa che per il 14 e 15 novembre prossimi potrà esserci l'interruzione nell'erogazione dell'acqua. Vediamo. L'ente per la gestione del servizio idrico Abanoa informa che mercoledì prossimo, a causa di alcuni interventi di riparazione in altre tante condutture del territorio, ci potranno essere alcuni disservizi, tra cui l'interruzione del servizio per diverse ore. Nello specifico, l'erogazione dell'acqua verrà interrotta nei comuni di Portoscuso e Gonesa il 14 novembre dalle ore 18 fino alle 6 del giorno dopo. In quello di Perdagius, sempre il 14 dalle ore 16 alle 6 del giorno successivo e in quello di Carbonia, dove l'erogazione del prezioso bene verrà garantita sino alle 20 del 14 novembre, dopodiché verrà interrotta fino alle 6 del giorno dopo. I disagi, fa sapere Abanoa, verranno ridotti al minimo indispensabile e solo per la durata necessaria per i lavori. Frequentemente nascono contenziosi su chi abbia responsabilità di manutenzionare le strade private nelle nostre città. Cosa dice la legge in merito? Ne abbiamo parlato con il presidente provinciale dell'Adi Consum, Giancarlo Canceda. Parliamo delle manutenzioni delle strade. Questa è la risposta a un quesito di un teleascoltatore che si è rivolto a questo emittente chiedendo chi deve manutenzionare le strade, in questo caso le strade private. Le strade pubbliche non si discute e sono di proprietà della pubblica amministrazione e questa le deve curare in toto. Le strade private ci sono due tipi di strade private. La strada privata già di per se stesso significa che è una strada di proprietà di una o più persone per uso esclusivo. Parliamo che ne so di un condominio, cioè una strada privata che va per... quindi il proprietario e i proprietari la devono manutenzionare e ne sono anche responsabili di eventuali incidenti che capitano in quel tratto di strada. Ma se la strada privata, per quanto privata, quindi di proprietà di singoli, è aperta anche al pubblico, quindi può transitare anche altre persone non residente in quella zona lì, a questo punto eventuali manutenzioni o danni che capitano in quella strada sono a carico della pubblica amministrazione. Sembra un controsenso, però è la Corte di Cassazione che ha deciso dicendo che se la strada privata è ad uso pubblico, cioè ci possono passare anche altre persone, quindi chiunque può passare, se la manutenzione è scarsa deve pensarci la pubblica amministrazione. Se incidente capita, cause buche o altri casi, la pubblica amministrazione deve intervenire. Quindi attenzione, strade private sì, ma uso privatistico o uso pubblico. Sono i due casi specifici che la legge, che la giurisprudenza ha deciso di chiarire. Il privato, se uso privato, se lo paga. Se privato ma ad uso pubblico, paga il pubblico. Bentornati in studio, apriamo la terza parte mostrandovi l'intervista che abbiamo realizzato stamattina con Monica Porceda, direttrice della Cernita Teatro, in merito alla rappresentazione teatrale Spazi di Frontiera, in corso ad alcuni giorni in città. Vediamo. Siamo in compagnia di Monica Porceda, direttrice della compagnia teatrale La Cernita. È in corso di svolgimento la rappresentazione teatrale Spazi di Frontiera. Stamattina avete avuto uno spettacolo proprio nella comunità di Via Marconi, a Carbonia, insieme ai ragazzi delle scuole. Sì, questa mattina ci troviamo qua, nello spazio della comunità di Via Marconi, uno spazio molto interessante della città, dove coinvolgeremo i ragazzi degli istituti di istruzione superiore. Andremo in scena con Andrea Rosas, autore e attore della nostra compagnia, e porterà La Gran Follia, una riscrittura di un filone dell'Orlando Furioso, che tratta del tema dell'amore della follia. Oggi, devo dire, è piuttosto attuale anche fra i giovani. Questo spettacolo poi lo rivedrete anche sabato prossimo. Saremo ospiti al centro culturale gestito dall'Arci di Iglesias, all'interno delle giornate del Festival del Mediterraneo, e faremo anche una tappa a Cagliari, però con un altro lavoro, un lavoro che è dato in scena l'anno scorso, che è una riscrittura di un racconto di Sergio Azieni, intitolato Nulla succede per caso, che vedrà sempre in scena Andrea Rosas. Saremo ospiti dello spazio La Fucina, gestito dalla compagnia Il Coroggiolo di Cagliari. Ci saranno anche altre iniziative all'interno di questa rassegna, che è partita il 12 di ottobre, collaborando con lo SPI della CGL, per un'iniziativa dedicata agli anziani sul tema delle truffe. Si proseguirà a dicembre, perché naturalmente noi non dimentichiamo dello spazio del Teatro di Bakuabis, dove abbiamo la sedia artistica, e dove faremo proprio alcuni spettacoli, tra cui il nostro cavolo di battaglia e il lavoro mobilita, che porteremo in scena proprio il primo di dicembre, collaborando con l'associazione pensionati di Bakuabis in occasione della festa del minatore. E poi il 2 dicembre ci ritroverete sempre con una compagnia La Maschera, che ospiteremo al Tiratore di Bakuabis, portando in scena questa volta una commedia. Verrà presentato giovedì prossimo a Carbonia il libro Le Città e i Territori, idee per un nuovo assetto dei poteri locali in Sardegna, del professor Gianfranco Sabatini. Vediamo. Si terrà giovedì 16 dicembre alle ore 17.30, nella sala Assemblea del Circolo Royal Coop, sito in piazza Marmila a Carbonia, la presentazione del libro dal titolo Le Città e i Territori, idee per un nuovo assetto dei poteri locali in Sardegna, del professor Gianfranco Sabatini. Il volume tratta le importanti tematiche dello sviluppo economico e sociale dal basso, soffermandosi sulla riorganizzazione delle città e dei territori in tal senso. Parteciperanno e interverranno Antonello Angioni, direttore dell'Istituto Gransci e tra i principali organizzatori dell'evento, Salvatore Cherchi, coordinatore del Piano Sulcis, Cristiano Irriu, assessore regionale agli enti locali all'urbanistica e chiuderà i lavori l'intervento del professor Sabatini. Venerdì prossimo la Sala Assemblea della Portovesma SRL ospiterà un importante dibattito sulle prospettive dell'industria nel territorio. Vediamo. La rappresentanza sindacale unitaria della Portovesma SRL ha organizzato per venerdì 17 novembre presso la Sala Assemblea della Fabrica un importante convegno sulla presenza del settore industriale del sulcis iglesiente in riferimento anche alla pressante burocrazia che spesso impedisce o comunque ostacola ogni potenziale intrapresa imprenditoriale. All'incontro, che prenderà il via alle ore 9.30, sono invitate tutte le organizzazioni sindacali, i rappresentanti delle istituzioni locali, delle associazioni, i consiglieri regionali, i parlamentari e tutti i cittadini. Scopo dell'iniziativa sarà anche quello di compattare le forze sane del territorio sull'importanza di rilanciare e rafforzare il settore industriale a ogni livello. Il nostro tre giornali è concluso, a seguire andrà Noasa in cursa a cura di Guido Cadoni grazie di averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.